Ben ritrovati con l'informazione su Arezzo TV, apriamo parlando dei controlli contro la cosiddetta mala movida, un termine che peraltro non piace a tutti, ma con questo termine solitamente si indicano i fatti che sono accaduti anche nelle ultime settimane, come ad esempio in Piazza della Badia come del resto in altre zone della città. Dopo un vertice proprio sulla sicurezza pubblica che si era tenuto in prefettura, la presenza del comune, delle forze dell'ordine erano appunto stati decisi dei controlli più importanti, più serrati in alcune zone nevralgiche della città. Ebbene, questi controlli ci sono stati soprattutto nella serata di sabato e allora sentiamo nel servizio di Chiara Sadotti quali sono stati i risultati. 9 esercizi commerciali controllati, 50 multe per violazioni al codice della strada e 3 locali sanzionati per mancanza di licenze per la somministrazione di bevande alcoliche. Finisce così il primo fine settimana di controlli decisi al tavolo per la sicurezza pubblica della prefettura con comune e forze dell'ordine dopo i tre episodi di violenza consecutivi avvenuti in piazza della Badia ad Arezzo. Attività anti Malamovida che ha visto controllare 450 persone 120 veicoli. Il bilancio è stilato dalla questura di Arezzo che così come preannunciato dalla prefetta Maddalena De Luca si è fatta capofila nel coordinamento delle attività interforze. Le verifiche durante soprattutto la serata del sabato hanno riguardato piazza San Francesco, via Cavour, Corso Italia, piazza Sant'Agostino, Guido Monaco e piazza della Badia. Quest'ultima in particolare specificano dalla questura in una nota luogo di ritrovo per molti giovani e oggetto di attenzione da parte del personale operante. Vista l'efficacia di tali servizi per scongiurare potenziali situazioni capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica concludono nei prossimi weekend il dispositivo interforze di controllo del territorio, in particolare del centro cittadino, verrà mantenuto. E torniamo anche sull'aggressione che è avvenuta a Campo di Marte, venerdì scorso un 25enne colpito più volte in più parti del corpo con un'arma da taglio, un collo di bottiglia rotto ricoverato all'ospedale di Arezzo, è stato dimesso nelle scorse ore per questo episodio, è stato rintracciato e denunciato un 25enne, si tratta di un coetaneo appunto con precedenti per reati contro il patrimonio sul quale adesso pende anche l'accusa di lesioni personali aggravate. Un'altra persona sarebbe ancora ricercata da parte degli uomini della squadra mobile di Arezzo diretti da Sergio Leo che stanno conducendo le indagini. Torniamo sulla situazione anche del maltempo in Emilia Romagna che come sapete ha causato dei forti disagi anche per quello che riguarda la viabilità nell'aretino ed in particolar modo nel tratto aretino della E45. Ancora una settimana di chiusura della E45 ai mezzi pesanti superiori alle 3 tonnellate e mezzo in ingresso da Sansepolcro nell'aretino verso Ravenna. Permane la condizione di emergenza nelle zone alluvionate ed alcune problematiche che si sono verificate nel tratto romagnolo dell'arteria sono ancora in via di risoluzione. ANAS ha quindi disposto in accordo con le due prefetture di Arezzo e Forlice Sena un'altra settimana di limitazioni al traffico anche se è stato ridotto il tratto interdetto ai mezzi pesanti. Fino a lunedì 29 maggio scrive ANAS la modifica della circolazione sulla E45 è valida per i mezzi con massa superiore alle 3 tonnellate e mezzo ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza che viaggiano in direzione Ravenna nel tratto incluso tra gli svincoli di Bagno di Romagna e Sarsina. A Sansepolcro invece attivo il filtraggio dei mezzi pesanti con lunga percorrenza. Quelli in transito sulla E45 in direzione Cesena Ravenna che devono raggiungere località a nord di Bagno di Romagna sono deviati con uscita obbligatoria allo svincolo di Sansepolcro con prosecuzione sulla statale 73 in direzione Arezzo per poi utilizzare la 1. Nell'ambito delle operazioni connesse alla gestione della forte ondata di maltempo ANAS ha disposto sino al 29 maggio il divieto dei mezzi pesanti anche sulla strada statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola. L'istituzione del divieto di circolazione e mezzi pesanti scrive ANCORANAS è collegata alla chiusura al traffico in direzione nord del tratto incluso tra Bagno di Romagna e Sarsina per i lavori in corso nella galleria Lago di Quarto e per la chiusura al traffico Causa Frana della statale 71 dal chilometro 250 al 244,800. Giornata faticosa quella di oggi lungo l'autostrada del Sole nel tratto in particolar modo che andava da Arezzo al Valdarno un incidente nel tratto Fiorentine un altro invece in quello Arettino ha causato lunghe code e appunto disagi importanti al traffico risolti soltanto nel pomeriggio intorno alle 17.30, 10 i chilometri di coda che ad un certo punto intorno alle 14 si erano formati in direzione di Firenze. Adesso invece con questo video andiamo a Sansepolcro, il video ci arriva da un nostro telespettatore, un'auto come vedete una Fiat Panda che è andata in fiamme, poi nel video si nota bene anche addirittura l'esplosione, per fortuna la conducente è rimasta illesa sul posto, si sono portati i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull'accaduto. Guasto al forno di AISA, in particolar modo alla linea 45, così la definisce il presidente di AISA Giacomo Cherici, parliamo ovviamente di rifiuti, sarà uno stop importante quello per l'impianto appunto di Sanzeno e allora c'è un appello proprio da parte del presidente Cherici producete meno rifiuti o la filiera rischia di bloccarsi. Piccolissimi disagi che potranno essere nell'ordine di un pochino più di spazzatura nei cassonetti, di un po' più di fila di camion davanti all'impianto, questi sono i disagi. Quello che però si deve capire è che tutta la linea termica è quella che produce l'energia per gli altri impianti che stanno l'intorno, quindi si produce un danno economico, non avendo energia autoprodotta dobbiamo prendere l'energia dalla rete ad esempio per alimentare il compostaggio e quindi questo è un danno economico nell'ordine degli 8 barra 10 mila euro al giorno. Un pistone rotto spegne il forno del termovalorizzatore di Sanzeno e Giacomo Cherici, presidente di AISA e Impianti, a rendere noto che ci sarà sicuramente una settimana di stop forzato. All'impianto si è rotto il pistone che fa muovere avanti e indietro la griglia del forno, questo pistone insieme al suo collega pistone muove questa griglia per ottimizzare la combustione del forno e quindi praticamente si è disassata la griglia, ciò implica di dover chiaramente fermare il forno, aspettare il raffreddamento e quindi intervenire per rimettere tutto a posto, una settimana di lavoro buona. Il rischio da scongiurare è che l'intera filiera si blocchi, per questo l'appello verso i cittadini a tentare di ridurre il più possibile la quantità di rifiuti prodotti. Ecco ai cittadini si chiede allora un po' di pazienza se vedranno qualche sacco di spazzatura in più e lei però ha fatto un appello preciso, producete meno rifiuti? Sì, sì, io sono piuttosto per le maniere spicce nel senso che è il momento in cui non bisogna fargli avanzi, è il momento in cui bisogna darsi da fare per ridurre i rifiuti, ma i rifiuti andrebbero ridotti sempre perché il rifiuto comunque ha un impatto sull'ambiente, sia che lo facciamo differenziato che non lo facciamo differenziato, è un qualcosa che quando riusciamo a ridurlo si abbassano i costi. Ricordo che i nostri costi industriali sono tra i costi più bassi perché questa organizzazione impiantistica così proprio a tutto tondo nell'economia circolare ci consente di ad esempio lavorare a 116-117 euro a tonnellata quando ci sono altre zone che lavorano a 200, 220 e anche 250. Questo è molto importante da capire. È di Montevarchi il medico che ha salvato la vita al tifoso colto da malore durante la semifinale di ritorno della Conference League che ha visto la Fiorentina trionfare contro il Basilea sul campo elvetico. Simone Santopietro, medico legale e presidente del circolo tennis di Montevarchi, con il supporto di un infermiere di Careggi, è riuscito a prestare aiuto al tifoso del Viola Club il porcellino colto da infarto. L'episodio è accaduto giovedì appunto 18 maggio durante il secondo tempo supplementare della partita, peraltro sospesa durante le operazioni di soccorso. Per ringraziare i giocatori l'associazione Solo Viola ha realizzato un poster che, montato su un camion vela, ha fatto il giro del Valdarno e di Firenze riportando la scritta, un gesto unico al mondo per uno di noi. Parliamo adesso invece della solidarietà di tutti gli aretini nei confronti del Calcit che non manca di esserci anche in questo mercatino che ha sfidato le previsioni meteo e poi ha vinto l'incasso, supera i 50.000 euro, esattamente 50.411,45 euro sono finite nelle casse del Calcit. Sembra almeno che dall'entusiasmo che ci ha percorso lungo tutto il cammino, che è un mercatino assolutamente che tutti si aspettavano. Sì, il mercatino è anche un momento di entusiasmo, di gioco, di divertimento, perciò siamo anche soddisfatti per questa serenità che regaliamo alle persone. Tra l'altro c'è da dire anche una cosa, noi conosciamo, perché anch'io come associazione di volontariato conosciamo la crisi che sta attraversando il volontariato, invece quando c'è il mercatino del Calcit sono tutti a disposizione, mi hanno fermato insegnanti di scuole e sono tutte contente e felici. Sì, diciamo che la crisi è un po' della società, non è solamente nostra e chiaramente tutti ne risentiamo, però devo dire che le persone quando si parla di aiutare le associazioni, quelle che lavorano in particolare per la nostra città, poi sono generose, si impegnano, sono disponibili, perciò insomma bisogna guardare avanti e veramente rendersi conto che ad Arezzo il volontariato tutto è in ottima considerazione e credo che possa anche fare affidamento su quello che è il sostegno dei cittadini. E ieri domenica 21 maggio, giornata di apertura gratuita per le dimore storiche d'Italia e della Toscana, noi siamo andati a visitare Casa Bruschi. Dai castelli alle rocche, dalle ville ai parchi e giardini, ha così riaperto le sue porte il più grande museo diffuso d'Italia con la tredicesima edizione della giornata delle dimore storiche. Un appuntamento per riscoprire le bellezze nascoste, 500 i musei nazionali aperti gratuitamente, 120 sono in Toscana. E' bello, ma oggi è importante per venire certamente molti genti. Nella Retino sono 11 gioielli visitabili dalla Val di Chiana con il castello di Gargonza e quello di Montecchio Vesponi alla Val Tiberina con il Palazzo del Monte. Ad aprire le sue porte nel centro storico di Arezzo, la Casa Museo di Ivan Bruschi, per far conoscere così la collezione dell'illustre antiquario a Retino. Mi piace molto. Questa rappresenta un'occasione per visitare luoghi che appunto fanno parte del patrimonio del nostro paese, appunto le dimore storiche e questa è una dimora storica a tutti gli effetti. La Casa di Ivan Bruschi, il fondatore della fiera, nella quale è possibile vedere gli oltre 8.000 oggetti della collezione da lui raccolti e tra l'altro anche la mostra che è visibile al secondo piano, la mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Linare di Firenze, la sottilità dell'aria che tra lato resterà visibile anche per tutta l'estate. Quindi un motivo in più per visitare la Casa Museo. Torna a San Leo da vivere la prima serata di shopping notturno, ma non solo, anche enogastronomia, ma soprattutto tanta convivialità targata ConfCommercio. Torna finalmente a San Leo da vivere, giovedì 1 giugno dalle 17 alle 24, grande festa, seconda edizione dopo il grande successo della scorso anno. Torna questo appuntamento insieme ai commercianti di San Leo con tanti eventi, menu ricchissimo, scuole di ballo, spettacoli, negozi aperti fino a mezzanotte, un'area street food per degustare i migliori prodotti del territorio, attività aperte, spettacoli musicali, spettacoli di ballo, insomma ce n'è per tutti i gusti, vi aspettiamo. San Leo da vivere, la strada sarà chiusa al traffico e quindi si potrà godere di una notte veramente tutta da vivere. I quartieri sono frazioni, sono quasi piccoli paesi, quindi più che una festa di strada una festa di quartiere diventa veramente una festa di paese dove il senso di attaccamento è anche più sentito, più importante e quindi benvengano anche per cementare questo senso di appartenenza oltre che per passare una serata piacevole. E' il tessuto commerciale di queste zone della città come in questo caso di San Leo che è un tessuto commerciale molto vivo che ci tiene a farsi conoscere e come dire ci tiene anche a stare unito, è una rete vera di solidarietà che tra tutti i commercianti poi ha fatto nascere questa voglia di stare insieme e di fare festa che quest'anno è la sua seconda edizione e quindi San Leo da vivere edizione 2023 sicuramente sarà un successo come lo è stato la prima edizione ed è proprio la differenza, la passione dei commercianti, la passione delle attività tutte, non solo i commercianti, di questa parte della città molto bella, fra l'altro dove troviamo tutte le attività è questa la formula vincente. Devo dire che già la prima edizione è andata molto bene e questa seconda si promette molto buona perché coinvolge tanti operatori e sta crescendo per cui invito tutti a partecipare perché sarà sicuramente un bel evento. Tra l'altro la Camera di Commercio ha sempre uno sguardo attento su quello che è il mondo del commercio. Non c'è dubbio, i primi dati emersi quest'anno sulla demografia delle imprese ci dicono che il settore del commercio sta tenendo soprattutto dal punto di vista del turismo e dei servizi. C'è difficoltà legate sicuramente alle dinamiche dell'inflazione che purtroppo ancora per il 2023 saranno un elemento di forte tensione ma devo dire che i nostri commercianti sono sicuramente molto attivi anche per quanto riguarda la qualità e le eccellenze del territorio da mettere in vetrina. per cui essere presenti anche come strutture della distribuzione significa tenere in vita un territorio e in questo caso la frazione di Salleo grazie appunto ai commercianti anche rivive e devo dire attira anche l'interesse di consumatori e turisti. Maria Tortorizio è morta sabato scorso 20 maggio all'età di 96 anni, l'ultima signora della prima dinastia Lebole, moglie di Giannetto, si è spenta nella sua abitazione di Firenze a tre mesi di distanza dalla cognata Carla Giannotti, vedova di Mario Lebole. I funerali si svolgeranno alle 15 del 23 maggio all'interno della chiesa del Borro, lo stesso luogo dove tutto ebbe inizio, dove ancora oggi riposano Giannetto, Gina e Caterina, la famiglia, le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione. Condoglianze anche alla famiglia dei Vigili del Fuoco di Arezzo perché è scomparso all'età di 59 anni, il caporeparto esperto Maurizio Ponti lascia un grande vuoto, dicono dal comando Aretino nel corpo dei Vigili del Fuoco dove appunto era conosciuto e stimato e nel comando di Arezzo in servizio dal 1986, anche in questo caso insomma le più sentite condoglianze sia alla famiglia di Ponti che al corpo dei Vigili del Fuoco. E siamo allo sport, passo falso dell'Arezzo a Pineto e gli Amaranto sono fuori dalla pool Scudetto. Credevo che perlomeno con la Gianna lo facessimo, invece il primo tempo totalmente, loro ho molta più fame, ho molta più voglia, ho molta più voglia di fare loro la gara, noi il primo tempo sono totalmente deludenti, è un peccato perché poi visto il secondo tempo non c'era una così differenza, il secondo tempo la potevamo anche rimediare. Spero che il terzo gol sia buono perché se fosse veramente fuori gioco come mi dicevano ecco ci sarebbe un po' di rammare, speriamo sia buono il terzo gol. Noi abbiamo vinto i campionati 16 di aprile, continuo a ripetere ragazzi, siamo al 21 maggio, sono tanti, sono tanti, 40 giorni dalla vittoria ai campionati e hai visto i giocatori non sono tutti uguali, c'è chi vince o perde, mi cambia niente, fa dentro senza problemi, chi invece è meno, molto meno. Lascio l'armare un po' che hai il primo tempo, il secondo, posso anche perdere, sono eliminato ma il secondo tempo l'accetto, non c'è problema, il primo tempo, perché quello tempo sembrava ci fosse tre categorie, che cazzo. Infine parliamo di basket, sconfitta in gara 1 di finale per l'Amenescuola Basket Arezzo che si arrende alla SIBE Gruppo AF Prato per 80-70 dopo questa gara, pochi giorni per ricaricare le pile e riorganizzare le idee perché mercoledì le due squadre scenderanno di nuovo in campo alle 21.15 sempre alla palestra Toscanini di Prato dove servirà una prestazione diversa per provare ad impensierire una formazione solida appunto come quella di Coach Pinelli. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortese e attenzione e arrivederci.